Ciao ragazze, bentornati in un nuovo video. Oggi è una nuova collaborazione con l'azienda Mont Bleu Nail Glasses, un'azienda che si trova a Praga e che tratta di lime per unghie, ma non lime di qualunque, ma lime in vetro, con svaroschi all'interno, svaroschi originali. Se continuerete a seguire il video, c'è una piccola parolina magica che dovrete inserire se volete acquistare queste limette e avrete uno sconto del 20%. Solo perché è iscritto al mio canale, quindi se siete miei fan, miei iscritti, potete soffrire del buono. Che vi stavo dicendo? Sì, vi mostro subito il pacco che arriva così, all'interno ci sono le limette, lo so, sembra un piccolo tabuto in miniatura. Ma non finisce qui, dentro il tabuto più grande ce n'è un altro più piccolo. Che adesso faremo uscire, ogni volta è un'operazione molto complicata. Confezionano benissimo, ce n'è questo da dire. Olè! Ce n'è un altro e qui dentro c'è il codice sconto per voi. All'interno dello scatolo più grande, quindi questo, troviamo un altro scatolo più piccolo che si apre così e all'interno troviamo le nostre limette confezionate con la pluriball, quindi ancora meglio perché se sono in vetro queste limette con la pluriball evitano di rompersi. Adesso vi faccio vedere nel dettaglio queste limette. apriamo, proprio viste alla perfezione, e abbiamo questi due tipi di limette. Quella più piccolina, in vetro, vedete io non ho gli svaroschi ma di solito loro li mettono qui, forse perché è stata una collaborazione o non lo so, comunque poco importa, io ho sempre utilizzato queste limette e per me, a parere mio personale, sono le migliori per quanto riguarda le nail art, anche perché evitiamo di stressare l'unghia, questa così più grande, di medie dimensioni, vetro tagliato definito benissimo, vetro soffiato, fatto alla perfezione, non graffia per niente, quindi non danneggia l'unghia, e poi ne abbiamo un'altra di dimensioni più grandi. Nel sito che vi lascerò nell'info box troverete il loro proprio sito, all'interno troverete proprio queste lime in diverse dimensioni, con svaroschi o senza, o addirittura con disegni personali, è tipo un cavallino, un gattino, una farfalla, potete scegliere quello che volete, troverete comunque tutto che riguarda la nail art. Ora vi spiego perché io preferisco le limette in vetro, le preferisco perché appunto, come detto prima, evitiamo di stressare l'unghia, non dobbiamo quindi passare la limetta, adesso non mi ricordo bene cosa fa quella di sopra se dobbiamo schieggiarla, ma so che sbaglierò sicuramente il termine, comunque insomma non faranno le stesse cose che fanno quelle limette appunto per non stressarle, io preferisco queste perché sono più facili da lavare, anziché usare particolari prodotti, basta lavarle sotto l'acqua, ho anche una passata con una pezzolina così ed è fatta, l'unghia viene pulita all'interno una lascia così, io già le ho utilizzate, vedete come sono bianche, le ridefinisce alla perfezione e soprattutto lima a velocità della luce, nel senso che se avete difficoltà con delle limette normali, ci state 20 anni a sistemare lunghe in modo che non graffi più, non punga più, invece con queste due passate ed è liscia liscia, quindi io ragazze adesso vi lascio qui da qualche parte la parolina magica che è questa, che potete digitare per avere il 20% di sconto, vi mando un grosso bacio, spero visiterete l'azienda, ringrazio l'azienda per questa opportunità, al prossimo video, ciao!